Il primo è che essendo un'associazione no profit, anche noi che c'è parte anche noi del terzo costruttore come economia per i cittadini, siamo una ricerca costante di fondi per svilupparci e per portare incontri come questo in tutta Italia. Fino adesso siamo nati nel 18 novembre del 2012, in poco più di un anno abbiamo fatto 52 incontri su tutto il territorio nazionale, qualche regione di più, qualche di meno. E ora per finanziarci abbiamo lanciato una piccola iniziativa che è una maglietta che vendiamo al costo di 15 euro, una piccola produzione marginale della nostra attività per supportare appunto i nostri incontri e in questa occasione siete fortunati perché proprio stasera la presento per la prima volta ai nostri ascoltatori in tutta Italia e quindi ve la faccio vedere se magari ci vorrete supportare attraverso questa donazione che mi diceva prendere la maglietta, ce l'abbiamo qui, ce la vedete dopo. Quindi la faccio vedere per la prima volta in tutta Italia. La maglietta è stata realizzata, la grafica, a mano da uno dei designer più promettenti italiani che si è diciamo prestato a questo per aiutarci, ecco proprio per supportare i nostri argomenti. Promettenti? No no è anche affermato perché lavoro per le multinazionali non lo volevo dire, però è giovane, lavoro per Ceres, Samsung eccetera eccetera eccetera, quindi è uno che insomma sa fare il suo lavoro e tutto fatto a mano e il ragazzo in questi giorni tra l'altro alla sera del font del Toscano, vabbè a parte questo, ve la faccio vedere il concetto qual è, abbiamo voluto portare avanti il concetto un po' commerciale, non siamo sull'economia ma siamo un po' più commerciali sul messaggio che senza diciamo coscienza di quello che succede non si può arrivare ad un cambiamento, quindi un'idea anche un po' gramsciana della divulgazione diciamo della consapevolezza, infatti, ecco la faccio vedere, non c'è cambiamento. La maglietta è di ottima qualità, fatta benissimo, diciamo, per gli standard massimi. La maglietta non è fatta, il motore? Non lo so, adesso non so se è ecosostenibile, però adesso se è andato un anno siamo riusciti a fare questo, ecco, e quindi insomma questo è l'altro. La maglietta non è fatta, 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 la magla attivati. Grazie per la visione!